campionati italiani di dragon boat siamo qui al lago le bandie di spresiano abbiamo con noi roberto livotto capitano dell'equipaggio venis canoe dragon boat allora cosa ti sembra questo campionato italiano gare molto combattute tutte sul filo di lana il photo finish ha avuto un bel lavoro oggi è un alto livello più degli anni scorsi veniscono a dragon boat l'equipaggio che ha vinto l'ultima regata il 2000 open le tue impressioni il 2000 una gara che si fa col cuore anche perché si arriva stanchi da una giornata di gare noi abbiamo avuto la forza di tirare fuori qualcosa in più e questo è il bello del dragon boat che si voga assieme e si riesce a tirare fuori qualcosa in più per l'equipaggio per gli altri tra circa due mesi ci saranno i mondiali per nazioni a milano è il primo mondiale di questo livello che arriva di dragon boat in italia cosa ne pensi del dragon boat italiano movimento bello bellissimo sta crescendo nei numeri nella qualità soprattutto ed è un modo bello di fare sport più forse naturale più spontaneo di alcuni sport olimpici che sono bellissimi io li ho praticati ma tendono a diventare veramente professionistici dragon boat ancora quella gioia di fare sport che forse un po va ricercata e ritrovata